ciao a tutti è un po che non ci vediamo e ho colto l'occasione di questa uscita di logic pro 11.2 per fare questo questo breve video dove vi faccio vedere le caratteristiche che mi hanno intreppato di più la prima in assoluto è quella dei fader del mixer cioè adesso noi abbiamo la possibilità di vedere i fader lunghi e non più questi qua piccolini andiamo a vedere un po premo command 2 ne faccio il mio famoso mixer sul monitor separato posso anche farlo su window open mixer e qua se ne vado su view vedete che ho la possibilità di vedere long fader ed ecco i miei fader lunghi sia anche anche qua ovviamente il long fader e questa è la caratteristica che più di tutti mi ha affascinato poi ho visto che facendo il bounce adesso abbiamo mp3 e uncompressed quindi non si chiama più pcm ma si chiama uncompressed poi ho lo stem splitter che è più avanzato tasto destro processing stem splitter e vedete che adesso ho la possibilità di separare in stem più cose ad esempio le chitarre dei pianoforte vi dicendo se io applico mi crea un sottomix una cartella una folder con all'interno di stem separati cioè tutto tutto sicuramente affascinante e poi eccole qua ecco la nostra sottocartella è un track stack a tutti gli effetti un track stack a tutti gli effetti e un'altra cosa che c'è c'era già ma adesso l'hanno fatta un po più affascinante è il flashback recording se io vado qua col tasto destro c'è il flashback capture che mi permette fondamentalmente di salvare le idee che magari non ho registrato faccio command k schiaccio dei tasti ed ecco che qua c'ho il flashback capture che c'era già in realtà nascosto già da dalle vecchie versioni di logic perché c'era il capture recording però che ce l'abbiano messo qua mi piace che dire queste sono secondo me le caratteristiche più più intriganti più affascinanti sono sempre qua sono sempre fra grazie che che mi seguite anche se un po che sono silente mi raccomando datemi feedback sul libro logic pro 11 che è uscito già ormai da quasi un anno e che dire buona musica e buon logica a tutti a presto grazie a tutti